buongiorno a tutti e ben ritrovati qua su Radio Rossonera il 23 febbraio del 2024 è un venerdì post partita di eh Ren Milan ormai ha poche ore dalla qualificazione da una sconfitta però in in terra francese perde tre a due il Milan ma passa il turno tra poco non so quando vedrete questo video magari tra un'ora magari ci sarà già stato magari da tra tre ore ma insomma anzi tra due vedrete le palline che no anche ieri sera dalle 12 secondo me più ieri che alle 12 giravano parecchio per la nostra avversaria per le ottavi Enrico Boiani ciao 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 buongiorno adesso faccio la doppia reaction sia se abbiamo pescato il Liverpool sia se abbiamo pescato tipo i Glasgow Rangers vabbè il Liverpool ragazzi è andata così vabbè dai è andata bene con i Glasgow speriamo bene così se qualcuno lo vedrà dopo è preparato a entrambe le reaction no scherzi a parte ci aspetta il sorteggio speriamo bene perché in questo momento qui secondo me il Milan se becca una big esce quindi bisogna ricalibrarsi un pochino ritrovarsi un pochino e soprattutto il Milan deve un pochino ricostruirsi difensivamente se vuole arrivare in fondo a questa competizione e quindi bisogna sperare di pescare una squadra di un livello un po' più basso cioè del livello del Ren già è ok perché visto che con qualche intoppino perché comunque ieri è vero non la percezione che te l'avrebbero ribaltata non c'è mai quasi stata però comunque ti hanno fatto tre gol cioè è abbastanza grave se non ne fai tu tre all'andata e se loro all'andata magari non sono così tanto impauriti da San Siro spaventati e inesperti a livello europeo rischiano di magari strappare un 1-0 un 2-0 soltanto e se la giocano davvero la qualificazione quindi serve continuare con squadre di questo livello per ora secondo me perché il Milan difensivamente non c'è è inutile che ci giriamo intorno è inutile che che additiamo i problemi del Milan a una poca finalizzazione che per carità ieri potevi far sei gol è vero non sto dicendo questo le ha una sbagliati tanti benassé a Reinders insomma tanti hanno sbagliato l'ultimo passaggio Pulisic stesso non è stato lucidissimo in alcune occasioni per carità potevi far sei gol però onestamente non puoi prenderne tre non puoi prenderne due partite non puoi prendere non può essere la dodicesima difesa del campionato cioè per me inaccettabile quindi speriamo bene in questi sorteggi a proposito se mettete like c'è più chance di pescare lo Slavia Fraga quindi mettete like per aumentare la possibilità di pescare lo Slavia Fraga provo a fregarvi così stamattina scherzi a parte mettete like per supportarci vediamo cosa scrivono i giornali poi commentiamo un pochino quello che è successo ieri sera mirano avanti ma così non va cioè praticamente è l'esatto riassunto di ieri spaventa Ren perde e passa si salva con Jovic e un lampo di Leao qualificati col 3-0 dell'andata di San Siro vanno sotto e pareggiano decide il terzo gol di Boricio due rigori non sai più difenderti altri tre schiaffi dopo Monza ci serve più solidità agli ottavi nessuno sarà felice di incontrarci questo sì perché dalle squadre che salgono dai dei playoff sicuramente se non siamo la migliore poco ci manca ma direi di sì però se la va in giro a prendere gol a destra e sinistra prima o poi lo scarto va a tuo sfavore come è stato magari in altre circostanze quando pensi di poter giocare segnando un gol più degli avversari a volte lo fai e quando invece non lo fai perdi quando giocherai a quando lo scarto sarà positivo passo quando lo scarto tra una squadra e l'altra a livello dei gol sarà negativo esco capiterà la volta che sarà così ma non puoi giocare a questa roulette russa permanente anche ieri poteva finire boh 6 a 4 5 a 3 non lo so però ci andiamo con i singoli riavo errori magia raffa viaggio due velocità il gol è da big ma prima puntini puntini io vi c'è un gol per farsi perdonare aspetta di far coppia con giro direi che aspetta e spera pagelle 5 a pioli se mezza teo e 5 musa quindi sono allenatore migliore e peggiore poi ci sono una sfilza tra i 5 e i 6 6 e mezzo per qualche altro giocatore ma insomma ti devo dire la verità stata che abbastanza positiva la valutazione cioè se me ne ha 5 e mezzo chier sei benessere se mezzo le 5 e mezzo pulisic 5 cafore 5 e mezzo florenzi 6 gabbie 6 rendere 6 mezzo jovic 6 e loftus chic e 5 ciupoese questi ne voti di gazzetta per quanto mi riguarda hanno preso tutti i mezzo voti in più che ci può stare perché comunque hai passato la qualificazione va bene però è una partita veramente brutta cioè è una partita brutta per quanto mi riguarda io non so come l'avete percepito da casa io la vole mai nei capelli la vole mai nei capelli cioè ma non so te simo ripeto per me è stato proprio un campanello d'allarme ma presente le campanelle quelle quando facevi la prova antisismica a scuola quelle robe lì cioè ma a me ha stupito ha stupito l'approccio alla gara cioè io capisco che loro dovevano essere particolarmente offensivi e quindi rischiare tantissimo ma questo non non ti implica che il milan ha preso delle ripartenze in faccia anche nei primi dieci minuti il milan che era sopra di tre gol al fischio d'inizio che cosa caspita li ne fregava di scoprirsi niente io ad esempio mi sarei aspettato gioca bene a ser lo mettiamo lì vertice basso in mezzo al nostro centrocampo a fare un pochino da schermo a chiere e gabbia così facciamo anche uscire magari la palla in una maniera un pochino più consona al gioco del calcio rispetto a lanciare al profondo così random ci mettiamo di fianco due mezzali da una parte una dall'altra li teniamo non ti dico bloccati quello no però li teniamo in posizione giochiamo in maniera anche un pochino più scolastica forse però li teniamo con una sorta di un bel 4 3 3 classico che quindi i tre davanti quando loro si scoprono tanto in ripartenza possono fare male perché tanto sono tutti giocatori che in contropiede vanno nel caso se aggiungo una d'una delle mezzali ma al massimo quindi vuol dire che quantomeno quattro dietro e due a centrocampo sei più il portiere non vanno in giro eppure per i primi dieci minuti è stato tum 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 cioè attacco io attacchi tu attacco io attacchi tu ma che cos'era quella roba lì era la loro partita bravi loro ma non la nostra sì però onestamente cioè ripeto è inconcepibile farlo ma perché inconcepibile ma perché sei sopra 3 a 0 ma che bisogno c'è cioè che bisogno c'è questo che io non capisco ti chiudi ti difendi stai buono compatto tranquillo hanno lasciato buchi e sottolineo buchi dal primo minuto loro loro al primo minuto beccano il contropiede di leao in uno contro uno con omarie da solo cioè ne avresti potuti fare se avessi difeso in una maniera diversa 15 di quei contropiedi lì perché loro doveva recuperare e al secondo gol che prendevano probabilmente dicevano vabbè non prendiamo altri quattro gol facciamo che ci chiudiamo è finita e bella lì però partire così all'impazzata al secondo tant'è che poi dopo dieci minuti neanche che minuto era pigli gol ma perché è giusto cioè per quanto mi riguarda è giusto che vieni punito se se approccio in una certa maniera è corretto chissà se nei prossimi turni di di europa league ripeto vedremo il sorteggio affronteremo in maniera diversa speriamo metto un se grosso così con una casa se qualcuno in società ancora pensa che questo ciclo non sia non finito stra finito al di là del risultato che può arrivare in europa league mi cascano le braccia perché sono le mattine e quindi bisogna dire le braccia mi cascano le braccia perché vuol dire realmente non capire cosa accade su un campo da gioco perché è una squadra con questa rosa qui che prende 45 gol e in campionato non dice più la sua da tre mesi quasi perché tanto la prima è andata via novembre e arrivederci la solita crisi infortuni ha preso 45 gol in stagione 45 45 ma stiamo parlando 45 in 35 se non ricordo male partite stagionali in europa league è passata perdendo i soliti tre gol io metto davanti un segra su una casa se qualcuno ancora pensa che ci sia la possibilità che anno prossimo questo sia lo stesso che pioli sia lo stesso allenatore che continua che prosegue il lavoro anche nella prossima stagione mi cascano le braccia anche se dovesse alla esagero anche se dovesse vincere l'europa league anche per me anche per me ma c'è un piattume generale e c'è proprio evidente di mentalità di crescita tecnica di crescita a livello di maturità di di approccio di atteggiamento cioè è è vuoto il milan in questo momento sì ogni tanto gli dai no con come si chiama quello che l'elettrofio di latore gli hai dato col defibrillatore in champions league col pari san germain gli hai dato col defibrillatore una sfida con la roma per carità le partite in cui ero un po più in difficoltà però cioè stai provando a fare così e hai giusto con i sussulti perché per il resto il milan è vuoto ma sotto ogni tipo di aspetto cioè approccio mentalità compattezza organizzazione lucidità live crescita dei giocatori che si sono fermati qualcuno ha forse fatto qualche step indietro cioè vuoto qui serve proprio l'elettroshock veramente andiamo avanti con sto piattume poi magari a qualcuno va bene perché dice vabbè sai cosa mi qualifico per la champions vedo dove arriva un'europa league poi conti a posto va bene così ma io non sono nessuno per dire che non bisogna pensarla così è assolutamente ognuno lo vive come vuole come diciamo sempre per quanto mi riguarda è follia se i colori sono rosso e nero però ognuno lo vive come vuole eri noi ci ritroviamo tra poco per quanto riguarda il resto della nostra programmazione ci chiami alle 11 lancia elettrici e pelle rossa nera alle 16 quindi grazie grazie a te grazie a tutti mi raccomando i like e vediamo chi peschiamo e alle 12 c'è il sorteggio ciao